Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 4 km di coda per un incidente al km 343 tra Arezzo e Valdarno. Sempre verso Bologna, rallentamenti tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per perdita di carico tra Valdarno e Arezzo. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Proprio in FIPILI per lavori di sostituzione della segnaletica verticale e chiusura della rampa d'uscita in direzione mare dello svincolo di Pisa Nord-Est la notte del 13 settembre in orario 22.6. A Firenze fino al 5 ottobre per lavori di realizzazione del nuovo marciapiede in Via del Paradiso, strada chiusa da Via Fortini a Via San Marcellino. Ed è tutto, buon viaggio! A Firenze fino al 5 ottobre per lavori di realizzazione del nuovo marciapiede in Via del Paradiso.